ok probabilmente sta già registrando allora simuliamo l'inserimento delle strategie tris 2000 sul bitcoin cioè inseriamo delle cinque quote tre quote allo stesso prezzo stiamo parlando di long e quindi a rialzo e poi inseriremo tutti i take profit gli stop loss e tutte le varie quote successive quindi ammettiamo di prendere il prezzo del momento come riferimento abbiamo i 59 mila dollari di bitcoin qua vedi che c'è uno spread abbastanza ampio tra il vendi e il compra cioè tra denaro e lettera tra lettera e denaro comunque noi adesso facciamo questa esercitazione e compriamo al prezzo del momento quindi io faccio così acquisto clicco sul pulsante acquisto ci mette un pochino allora la quantità noi abbiamo detto 0,01 contratti che significa che per ogni movimento più o meno di 1000 dollari abbiamo circa 10 dollari 10 euro per comodità parliamo di euro quindi 10 euro per ogni 1000 dollari quindi se sale di 1000 dollari stai guadagnando 10 dollari o 10 euro quello che è se sale di 2000 stai guadagnando 20 tieni conto appunto che noi dobbiamo inserire 5 quote quindi dobbiamo ottenere comunque quote basse giusto per esercitarci ok faccio acquista ok qua mi dice acquistato una quota il valore sono 500 euro quindi ho acquistato l'equivalente di 500 euro di bitcoin io devo comprarne 3 quindi acquista una volta che io ho inserito la prima volta la quantità che è 0,01 plus 500 te la tieni in memoria quindi la volta successiva ti fa vedere ugualmente 0,01 e lo acquistiamo e sono due poi acquistiamo la terza sempre 0,01 clicco su acquista ok adesso cosa faccio vado inserire i take profit cioè il prezzo a cui io voglio chiudere voglio vendere quindi vado sull'ordine sulla quota che io ho comprato faccio modifica e gli dico chiusura in profitto quindi io ho comprato diciamo attorno ai 59.000 quindi se va a 61.000 dollari io vendo però adesso gli metto anche lo stop loss cioè gli metto anche la chiusura in perdita secondo questa strategia io devo mettere uno stop loss di 6.000 dollari quindi a 53.000 inserisco direttamente 53.000 quindi chiusura in profitto a 61.000 chiusura in perdita a 53.000 e poi faccio aggiorna ok e mi si è aggiornato dopo lo vediamo faccio la stessa cosa con la seconda quota chiusura in profitto chiusura in perdita allora la seconda quota io la chiudo a 63.000 perché da 59.000 perché da 59.000 chiudeva 2.000 punti in su chiudeva la prima quota la seconda quota chiude a 63.000 cioè 4.000 4.000 dollari sopra lo stop loss è sempre a 53.000 e faccio aggiorna poi modifico la terza quota chiusura in profitto e chiusura in perdita da 59.000 più 6.000 vado a 65.000 quindi 65.000 dollari e la chiusura in perdita è sempre a 53.000 anzi le mie tre quote adesso posso già impostare le altre due quote certo certo puoi modificare quando vuoi allora verifichiamo subito nelle posizioni aperte guarda io vado su posizioni aperte quindi ho comprato e ho su questa questa è quella prima che ho modificato no quindi ho un limite cioè un ordine di vendita cioè di chiusura a 61.000 io sono entrato a 59 il limite è a 61 lo stop è a 53 sulla seconda che ho modificato allora lo stop è sempre a 53 il limite cioè il take profit a 63 sulla terza ecco vedi che è molto semplice perché ti fa vedere tutto qua tanto adesso il mondo fino a 14 è crescente questo fino al 13 è ascendente sì però qua per entrare sul bitcoin io aspetterei un ritracciamento se prima non mi fa un ritracciamento almeno di 2000 punti di 2000 dollari io parlo sempre in punti perché ho in mente gli indici comunque se non mi scende almeno a 56.000 io qua eviterei di entrare a rialzo certo ecco aspetto l'oscillazione favorevole comunque anche qua la terza quota è sistemata con un limite cioè un take profit a 65.000 dollari e uno stop uguale che per tutte le quote è 53 se io voglio modificarlo lo posso fare da qui mettiamo che anziché 65.000 voglio mettere 64.500 lo modifico 64.500 faccio aggiorna a posto ok adesso ritorno qua dove c'è negozia e inserisco già le altre due quote long 2000 e 4000 punti sotto il punto dove sono entrato io quindi siamo entrati più o meno a 59.000 e dico acquista poi vado su avanzate e qua mi dice sempre acquisto sì ok ok sempre acquisto e qua mi dice acquista quando il tasso è siccome io le prime quote le ho aperte 59 la quarta quota la metto a 57 cioè se arriva a 57 mi compra un'altra quota gli metto addirittura chiusura in perdita e chiusura in profitto quindi gli dico se va a 57 e poi mi rimbalza a 59 mi chiudi questa quota se invece da 57 mi va a 53.000 cioè dove io ho lo stop mi chiudi ugualmente e questa è la quarta quota adesso inserisco la quinta quindi gli dico anziché acquista subito dico avanzate acquista quando il tasso è allora siamo entrati a 59 la quarta entra a 57 e la quinta entra a 55.000 poi gli dico già chiusura in perdita e chiusura in profitto chiusura in profitto se da 55 mi va a 57 me la chiudi e se mi va a 53.000 che è lo stop loss me la chiudi ugualmente ok io ho finito l'inserimento adesso vado a vedere nelle posizioni aperte se ho fatto tutto giusto ah no chiaramente no perché quello lì è un ordine pendente no allora le tre che ho già aperto sono già posto e poi negli ordini ho queste qui ordini sono ordini pendenti cioè entrano solo se viene raggiunto il prezzo quindi vedi che la prima che ho inserito è la quarta quota a 57.000 cioè se da 59.000 va a 57 io entro con la quarta quota ho già lo stop no scusami no era questa allora questa è la quarta se da 59 va a 57 entra se da 57 va a 59 mi chiude in guadagno se mi scende a 53 mi chiude in perdita in stop loss ok poi la quinta abbiamo detto se scende da 59 mi va a 55 me lo acquisti se poi da 55 sale a 57.000 me lo vendi quindi prendi un profitto se scende a 53 chiude in perdita chiude in stop loss ok esatto perfetto io ho completato praticamente tutta la struttura delle quote long partendo dai 59.000 dollari di adesso che è una simulazione perché lo stiamo facendo in questo momento non è esattamente il punto di ingrazione insomma è un'esercitazione sul prezzo che sta facendo in questo momento certo ok per cui tu in teoria in 5 minuti avresti già inserito tutte le condizioni ipotesi per i prossimi 2 3 5 10 15 giorni teoricamente per tutta l'onda esatto che sono 15 giorni esatto più o meno poi chiaramente questa è l'impostazione e la griglia poi durante i giorni si può vedere se modificare qualcosa chiudere per qualsiasi motivo dici no adesso ho già guadagnato abbastanza chiudo per qualsiasi motivo tu puoi chiudere manualmente ma nel frattempo quello che tu hai impostato lavora per te infatti è buona questa eh sì c'è un ragazzo un corsista toscano che lui fa tante operazioni giusto eh sì ma lui le fa sempre tramite queste griglie questa è la griglia sul DAX o sul MIB ma il principio praticamente è identico è questo se lui non fa non fa niente in pratica di suo poi ogni tanto magari prende qualche iniziativa ma lui le imposta subito all'inizio dell'onda cioè ogni volta che inizia una nuova operazione le lascia lavorare e poi se il mercato oscilla e va a prendere i prezzi che lui ha inserito è tutto automatico certo l'ultima onda discendente però in realtà non è stata discendente no l'ultima onda praticamente ha ha fatto vedere che il mercato si è fermato non è salito con l'onda discendente pur essendo un mercato long un mercato tendenzialmente rialzista con l'onda discendente non è salito è sceso poco e quel poco siamo anche riusciti a prenderlo pensa che bello non è salito